Riccardo e Sara, prima di incontrarvi avete vissuto due vite separate, avete sognato e desiderato cose differenti. Poi un giorno le vostre strade si sono intrecciate, vi siete innamorati e oggi vi trovate qui per iniziare un nuovo viaggio insieme. Grato per la bontà e la semplicità che vi distingue. Grato per l'amore e la tenacia che dimostrate tutti i giorni, soprattutto a voi stessi. Sara, ricevi questo anello simbolo del mio amore e della mia fedeltà. E mi hai detto Riccardo, ricevi questo anello simbolo del mio amore e della mia fedeltà. Per me è di esserti vedere sempre, nella gioia e nella terrore, nella salute e nella malattia. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Sara, una donna onesta d'anima, un'artista, ma la più bella arte che le ho visto fare è stata quella di dipingere e colorare la vita di Riccardo.